Sono ridotte all'osso le speranze di ritrovare in vita un rumeno di 42 anni residente a Campobello di Licata che si era tuffato nelle acque del lago Gibesi dalle quali non è più riemerso. L'uomo si era recato nei pressi del lago, nella zona tra Naro e Ravanusa, con la famiglia e alcuni amici per una gita fuori porta. Dopo pranzo ha deciso di fare una notata vista la giornata calda, ma secondo quanto ricostruito finora all'improvviso è andato giù per non riemergere. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con una squadra di sommozzatori, oltre ai soccorritori del 118 compreso l'elisoccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e ai carabinieri. Adesso si sta cercando di individuare il punto preciso in cui lo sfortunato 42enne è scomparso nella speranza di trovare quantomeno il corpo.